Sono tornati i virus stagionali e rispetto agli ultimi due anni sembrano essere anche abbastanza aggressivi. Queste le parole del presidente dei medici comaschi, Gianluigi Spata, che ha ricordato l'importanza della prevenzione. Da oggi i cittadini lombardi over 60 potranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale per la somministrazione del vaccino anti-influenzale. I soggetti a rischio per patologia potranno chiederla anche ai centri specialistici di riferimento e informa Regione Lombardia che sono disponibili fino a 2,7 milioni di dosi per tutto il territorio lombardo. Tutti gli altri cittadini invece per i quali la vaccinazione anti-influenzale è raccomandata e offerta gratuitamente, a partire dal 18 ottobre potranno prenotare l'appuntamento per il vaccino presso una ASST o una farmacia attraverso la piattaforma online regionale. Le categorie per le quali la vaccinazione anti-influenzale è raccomandata sono anche le donne in gravidanza e nel periodo successivo al parto, i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 14 anni ed ancora i medici e il personale di assistenza. Proprio perché l'influenza quest'anno con ogni probabilità si diffonderà durante una nuova ondata di Covid, i vaccini anti-influenzali possono essere co-somministrati nella stessa seduta oppure a qualunque distanza temporale con tutti gli altri vaccini, compresi quelli anti-Covid.